Due attentati incendiari nel giro di due mesi legati a doppio filo perché l'incendio che è questa notte ha incenerito la Hyundai i10 di Vito Carulli, dipendente dell'ufficio anagrafe del comune, non può non essere ricollegato alle fiamme che nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio scorsi distrusse la Hyundai Atos della figlia dello stesso funzionario, anche perché in entrambi i casi si sarebbe trattato di dolo come accertato nuovamente la scorsa notte dei vigili del fuoco del comando provinciale sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione. Secondo la ricostruzione effettuata, fiamme spente gialte all'arrivo dei pompieri su via Genova dove l'auto era parcheggiata, i piromani avrebbero prima inframto un vetro dell'auto, quindi avrebbero gettato nell'abitacolo una bottiglietta contenente liquido infiammabile e abbastato così un fiammifero probabilmente per dare il via alle fiamme. Al valio degli investigatori la vita lavorativa della famiglia Carulli ma anche la sfera privata non si esclude che qualche aiuto possa arrivare dalle telecamere installate nei pressi delle abitazioni della zona e il clima a Cellino diventa sempre più incandescente. Nel centro infatti si continuano a registrare misteriosi episodi incendiari, vittime preferite, dipendenti ma anche amministratori. Su tutti il sindaco Francesco Cascione e l'assessore Gabriele Elia. Non è insomma un caso che dal 12 luglio il prefetto di Brindisi Nicola Prete abbia istituito nel comune una specifica commissione d'indagine con la mission di individuare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti o indiretti. Con la stessa, tali da compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, qualcuno e l'episodio di stanotte sembrerebbe confermarlo avrebbe quindi deciso di accettare la sfida lanciata dallo Stato.